Ciao a tutti, Lui Lui, e lei Sofì, e insieme siamo in Back Contro Te Bentornati in un vlog dei Back Contro Te Oggi è un giorno veramente incredibile perché ci sarà l'anteprima del nostro nuovo film Vacanze e Trasimono Lui sarà una giornata incredibile perché abbiamo un sacco di cose da fare Dobbiamo avere tanta energia, quindi prepara la colazione dai Ma che prepara la colazione? Tanto non la posso preparare perché siamo in hotel Al massimo ce la possono portare in camera Per farciò bisogna chiamare la reception Vediamo se riusciamo a ordinare tutto Facciamo così, ho un piano Vai Tu chiami l'albergo e chiedi della colazione Io vado a prepararmi perché devo truccarmi Perché dopo mi truccherà il truccatore, ma adesso mi devo truccare io Intanto però ho fatto una triste scoperta, Lui Che scoperta? Vuoi vedere? Vediamo Non ti prego, non per vedere i caccole nel naso cos'è schifo Ma fare i caccole, ma fare i caccole, no Ricordi quando ieri ti dicevo che avevo un fastidio qua Stamattina mi sono svegliata e ho capito cos'era Cioè? Mi è spuntata un'afta Come un'afta? Volete vederla? Vediamo Che schifo, che schifissimo Grazie, guarda che fa male Saluto l'alentrata nell'afta Yeah yeah Non mi dispiace, penseranno che sei pazza oggi No, ma perché dico io Con tutti i giorni dell'anno in cui poteva venirmi quest'afta Giusto, giusto oggi, che giorno più importante dell'anno Magari il portapertura, non lo so Dai, dai, dai Andiamo Sì, pronto? Vorrei ordinare la colazione in camera Sofì, tu cosa prendi? Cornetti, cornetti Ok, allora Un piatto di pasta? Ma quale pasta? No, ma quale pasta? Lui Ok, dai cornetti Poi col sugo no, perché mi dà fastidio all'alta Che gusto, che gusto? Cioccolato Ok, eeeh, cornetti o le melanzane? Ma che... Dai Smetti, no Con le acciughe? Ma cosa dici? Ok Fette biscottate, fette biscottate Ok, delle fette biscottate Ah, ok Con, con cosa? Marmellata Con le acciughe Ma con le acciughe? Sì, guarda, io so No, 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 no Sei pazza È uno scherzo, lo stavo chiamando, veramente Ecco la colazione Wow, quante cose Per fortuna non mi hai preso veramente la pasta Forse però è esagerato Ho preso troppe cose Mamma mia, no Che è successo? No È caduto un pochino di latte Convieni sempre guai, lui Convieni sempre guai Lo so, mi dispiace Per fortuna è il tuo lato del letto Ma come? Oh no Io sta notte ci devo dormire di nuovo qua Ok, guarda Quante dolci Quante torte Quante cosine E qui ci dovrebbero essere i cornetti Controlliamo se c'è il cornetto Quello riso fino Questo è il pane Il pane Ma che cornetto è il pane? Cosa dico che è il pane? Ecco i cornetti Guarda qua Quanti sono Wow Bella spremuta Che c'è? Che succede? Brucia L'abso brucia Acqua 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 Gli agrumi Non vanno bene Ma cos'è sto cassino dal bagno? Va bene Ma che ci sono i lupi in bagno? Scappiamo Non vieni qua Perché stai combinando siamo in ritardo Fammi staccare qua la musica Oh no Ma sei sempre un guastapesto Ma non sono questa peste Siamo in ritardo E tu sei ancora col pigiama Ma no ma tranquillo E non è come sembra Ma come? Ma non è vero Ti stai ancora truccando Ma non mi lascio il rossetto Rino mi grande E poi mi devo Ancora tutte queste cose Ma sei pazzita Tranquillo Ma che fa? Che fa? Ah Ma è il ballo del lupo? Ti devi sbrigare E mi chiedo Ti sbrighi Sarò qui a ballare Se non puoi stare E a ballare Tanto io Ugualmente Non so come fare Con il brigare Che stai combinando adesso? Sto preparando Le cose Che mi devo portare Per la prima Perché poi non torneremo A Nutella A cambiarci Ma devo portarmeli in giro E ti stai portando Tutte queste cose Ma sei pazzita? Ci sono anche i gioielli I gioielli Ma quanti vestitini sono questi? Ma cosa si fanno a piegare Questi vestitini? Ma che sono? La meraviglia suprema Rui Preparati perché oggi Mi trasformerò in una vera principessa Una principessa? Una principessa della Transilvania? Certamente Ma sei vestiti dentro La valigia Sono in voi La valigia è la tua Ma mi spieghi Perché la sto portando io? Perché Ogni superstar Ha il proprio assistente Ma io non sono il tuo assistente Sofì Vabbè dai Perché tu fai palestra Sei più forte Hai muscoli no? E allora pedala Ma come che pedale? Ma perché si pedala con i muscoli? Scusa Lui me ne ha fatto il mio fidgetto Scusa Mi sono impegnata molto Per questo outfit Ti piace? Devo ammettere che è molto bello Ma forse ho sbagliato film Pensiamo di stare andando alla prima di Barbie Ma perché infatti? Indossa anche gli occhiali da alieno? Da star Forse vuol dire Sì A me è sempre più un alieno Con questi occhi così Ma non vi abbiamo ancora detto la cosa più importante Tra soli due giorni Il nostro nuovo film Mecotrone Film Vacanze Transilvania Sarà in tutti i cinema d'Italia Già perché esce il giorno 19 ottobre Quindi se state vedendo questo video Che è già passato il 19 ottobre Vuol dire che il film è già al cinema Potete vederlo Sarà una grande occasione Per poter festeggiare Halloween Tutti insieme con i vostri amici Anzi travestitevi per Halloween Con dei costumi spaventosi Proprio come ha fatto Sofì oggi Lei non sono vestita di Halloween Sto scherzando È una battuta Però volevo cavolo Mi ero comprato un cerchietto bellissimo L'ho dimenticata a Milano Uffa Sì ma non potevi mica andare in tv oggi Vestita da Halloween Certo che potevo lui Certo Le star possono fare tutto Arrivati Arrivati C'è già qualcuno del team Troate che ci aspetta qua fuori Dai dai Sofì È il tuo momento Vai e fatti vedere l'alieno Con i tuoi occhiali Buongiorno Come state? Il nostro momento Non ce lo dobbiamo fare Non ho capito Non ho capito Non hanno capito Non hanno una sorpresa Non hanno uno scherzo Tutti quando Ok 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 Quindi abbassiamolo Ci facciamo vedere Esatto Esatto Allora Noi siamo già al cinema Le persone non fanno Che dobbiamo vedere Ci vedranno su Aspetta Ok ragazzi Ok Ma è assurda ragazzi Noi siamo a vedere Nostro nuovo film Wow Oh ma è incredibile Wow Sovì Ma è incredibile Wow Ma quante persone Lui C'è un sacco Un sacco davvero Tutti a vedere Il nostro nuovo film È incredibile Ma quante saranno state Il biliardo Io sono senza parole Ma avete visto Wow Sono qui Salute le trote Ok ci siamo Ci siamo Ci chiamano È pronta 3 2 1 Vai subì Ciao ragazzi Buon giorno Qual è stato Siete emozionati Che vedete il nostro nuovo film Minate prima Siete pronti Per volare In Transilvania Sì Aspetta 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 Ce l'ho Tra Sofì e lui Sì Vedi è che Roletta Sofì Ma fantastico Grazie mille a tutti Grazie per essere venuti Allora Grazie Grazie Allaciate le cinture Di sicurezza Perché si parte Per la Transilvania Gliatitemi Ciao Ciao ragazzi Grazie Ti va in scena ragazzi In tv Ci siamo Abbiamo fatto tutte le prove ragazzi Saremo in tv In diretta Stiamo scappando con il microfono Aspetta Tieni Tieni il microfono Doppio microfono Ok Che corsa è oggi E ancora non è finita Perché ci stiamo andando a preparare Per andare alla prima La parte più importante della giornata Guardate qui Siamo super eleganti Tutti ci stanno aspettando E sono già lì Anche i nostri amici Non vediamo l'ora In più i nostri vestiti Sono super a tema Halloween Guarda Wow Ricorda un po' il conte Dracula E all'anteprima Sono già arrivati tutti Pongo Tara Jar Gicco E anche cattivi Ci sono per Fide Viperiana Non vediamo l'ora Ok Sofì dai Entra Ci siamo Dai 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 Musica wow è stato incredibile noi siamo davvero super emozionati e ora tocca a voi correte al cinema a vedere me contro te il film vacanze in transilvania che dal 19 sarà in tutti i cinema e mi raccomando questi debiteranno quindi per andare a vedere il film me contro te il film vacanze in transilvania